Bella a tutti, benvenuti su LeonTube e bentornati. Allora, da questo sacrario qua, che è quello che sta sul Monte Morte, proseguiamo per andare a fare quel sacrario laggiù. Quindi ci buttiamo con la paravela, da lì, vedete, dritto per dritto. Ok, carichiamo il gamepad. E potrebbe essercene anche un altro, eh. No, però credo sia quello, quello che era bello nascosto. Ok. Facciamo un break qua. Arriviamo da questa parte. Ok, qui ci arriviamo tranquillamente dritti. E eccoci qui. Sacrario di Sibashtak. La chiave del percorso. Sacrario di Sibashtak. Allora, la chiave del percorso. Ok, la chiave del percorso. Ok, abbiamo capito più o meno come funziona. Ok. Allora, solo che così noi rimaniamo. Eccolo, questo è a blocchi, perfetto. Quindi noi riavvolgiamo. Devo riavvolgere non questo. Questo. Allora sto riavvolgendo così. Ok, questo. Ma così cado. Ah, ok, ok. Perfetto. Solo che... Eccolo, così, così, così. Allora, quello mi porta ancor più su. Vai, 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 vai. Ora! Perfetto. Perfetto. E qui prendiamo lo scrigno. Oddio. Prendiamo lo scrigno. Per modo di dire. Ah, sì. Ce l'abbiamo fatta, ok. Ah, che poi l'uscita... No, quella è l'entrata. Ok, spadone. Per... Oh, perché è andato lì di corsa? Allora, ora invece dobbiamo fare per farlo andare a questi. Sono... Già così. Ah, questi pure sono allineati. Ok. Perfetto. Attendiamo che arriva qui in pari. Eccolo qua. Anche questo è sacrario. L'abbiamo risolto. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, vi è stato di aiuto, mi raccomando, un bel mi piace. Condividetelo con i vostri amici, nei vostri social. Non dimenticate di lasciare un commento. E come sempre, se vi va, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale. Non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti. Ciao a tutti! Ciao a tutti!